La mia presentazione racconterò la mia esperienza di genitore di un ragazzo con una malattia molto rara che si chiama Miplegia Alternante dell'Infanzia e parlerò appunto della mia esperienza, del mio lavoro come esempio di come dei pazienti, delle famiglie possono veramente cambiare la qualità di vita per i propri figli, per i pazienti con malattia rara e di come possono, di come hanno sostanzialmente un ruolo attivo nello sviluppo della ricerca su una malattia rara che sostanzialmente appunto ha questa difficoltà, grossa difficoltà di trovare ricercatori interessati a studiare la propria malattia e noi partendo dall'Associazione Italiana fino ad arrivare al giorno d'oggi a una comunità internazionale di pazienti, famiglie, ricercatori, medici e tutti gli stakeholder siamo arrivati appunto a far partire una ricerca che ha portato all'individuazione della causa genetica della malattia e adesso ha degli studi che si stanno avvicinando sempre di più alla tappa finale dello sviluppo di un farmaco efficace per contrastare gli effetti veramente devastanti di questa malattia.